Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, proseguiamo con l'apertura delle bustine di Among Us, i personaggi. Allora, cosa abbiamo trovato? Ricapitoliamo. Il primo che abbiamo trovato è stato... Babbo Natale. Non è Babbo Natale l'errore. È Babbo Natale. Discuteremo tutta la vita su questo. Poi abbiamo trovato... È il vecchio Babbo Natale. Il vecchio Babbo Natale. L'orribile astronauta. Perché in origine era più a te. Sì, stiamo parlando dell'astronauta adesso. L'astronauta. Che in origine era? L'astronauta, perfetto. E poi abbiamo l'impostore, giusto? Sì. Quindi abbiamo trovato i tre su... Quanti sono? 16. Vai ad aprire la prossima bustina. La prima delle tre che apriamo oggi. Quale è ben trovato? Non so, quale, se non è doppio. Carino. È bellissimo. È uno dei miei preferiti. Siamo all'inizio, quindi è difficile trovare doppio. A me piace tantissimo. Questo con la cerniera. Il robot. Quello col sacchetto in testa che abbiamo trovato. Perché è troppo carina sta faccina. L'unicorno, immagino. L'unicorno. Anche poi questo. Quello con le ali. Perché non l'ho mai visto con le ali. E questo perché è molto inquietante. Quale? Ah sì, quello è veramente inquietante. Vai, apri la seconda. Siamo a quattro. Quindi ce ne mancano dodici. Intanto li posizioniamo così. Vediamo se sta in piedi. Fantastica. Sì, stanno anche in piedi. Hanno migliorato le prestazioni. Uh. Questo è, non lo so, è geloso. È pitturato un po' come il Babbo Natale. Cioè, vedi che è pitturato in modo diverso da questo. È più lucido. Anche al tatto. È vero. È strano. È un po' più lucido. Un po' come questo. Con un cono stradale in testa. E quindi sono cinque. Aspetta che togliamo questo che così non si vede bene. E ci abbassiamo. Si è rotta? No, funziona. Ho visto qualcosa. Perciò, dato che sulle bustine lui non ha la collana. Nella checklist sì, scopriremo se ce l'ha o no. Ah, è lui? Sì, ce l'ha. Fa vedere la checklist dietro. È bellissimo. Vedi, non ha la collana nella cecca. È stranissimo perché ha gli occhiali sulla lente. È bellissimo. Questo sta diventando il mio preferito. Quindi, cosa abbiamo trovato oggi? Allora, uno, due. E tre. E tre. Ok, perfetto. La classifica. Brava. Aspetta che però, per la classifica... Eccoci qua. L'unico che non sta in piedi è questo. E fa niente. Vai, il finto bambino a pane. Non brava. Classifica, vai. Quanto è difficile farli stare in piedi. Se avete la gomma a pane, dov'è? So che c'era in giro della gomma a pane, che è sempre in giro. Vabbè. La patta fix, intendevo. C'era della patta fix. L'ho vista io. La gomma a pane non esiste in questa casa. Dov'è la patta fix? La patta fix! Vabbè, questo lo mettiamo così. Perché non ci vuole stare in piedi. Sempre quando non serve. Vabbè, quello non sta in piedi, fa niente. Classifica provvisoria. Vai. In quattro ristoranti. E questa è la classifica? Ah, è così. È troppo bello questo. Perfetto. Mi fanno troppo ridere gli occhiali. Però questo è troppo cute. È vero, è carino. Quindi siamo a sei. Giusto? Sì. E quindi ci mancano, ce ne mancano dieci. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere e commentare. E come sempre... Noi vi sentiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!